A Gatteo va in scena l'anticipo del campionato di promozione Gerone F. La sfida tra i padroni di casa e il San Termete. Il Gatteo cerca punti salvezza e il San Termete ha la continuità che è mancata fino ad ora. La risposta è a contracolpo dopo l'accessione di Vukai con l'acquisto di Noscese e il primo segno. Se poi si centrano anche i tre punti in esterna ancora meglio. Il San Termete inizia col piglio giusto il match. La punizione di Delia attraversa la porta difesa da Niang con la difesa locale che allontana il pericolo. La punizione di Delia poco dopo fa gridare al gol ma la gara rimane ferma sullo 0-0. Dall'altra parte il primo segnale del Gatteo con il tiro di quarta bloccato in due tempi da Romani. Capitonovo invece torna in pensieri Niang comodo a presa in questo caso per l'estremo di casa. I verdi andrebbero anche i gol due minuti più tardi ma il direttore di gara segna la posizione di offside già prima che Capitonovo deposite la sfera in fondo alla rete. Il Gatteo ci prova con Endai e Romani accompagna con lo sguardo la sfera che si spegne sul fondo. Capitonovo tra i migliori oggi impegna Niang in tuffo alla respinta in corner. Il Gatteo si spinge nuovamente in fase offensiva a cui Romani blocca senza affanni. Il San Termete invece replica con il tiro di Marconi che mette a lato ma subito dopo dubbio episodio in area di rigore locale. Betti lancia Capitonovo che anticipa in uscita Niang e frana a terra. Per l'arbitro non si tratta di penalti ma ben sì di punizione per i padroni di casa che ringraziano perché poco dopo passano il vantaggio. Il gol è d'autore. Il tiro a giro di Perazzini è davvero d'applausi con la sfera indirizzata all'incrocio dei pali laddove Romani non può arrivare festeggiando così alla recinzione la rete che sblocca la gara. Il finale è ancora di marca ospite. Il tiro di Marconi è fuori misura invece l'ultima azione di prima frazione da gioco porta la punizione di Delia smanacciata da Niang in corner. La ripresa inizia con questa punizione di Fuchi che si spegne alta. Il Gatteo crea dopo i gol l'azione del possibile 2-0. Il colpo di testa di Camillini trova una respinta da campione di Romani che paradossalmente tiene a Galli i suoi che sfiorano prima la marcatura con il neo entrato Sartini poi vanno a bersaglio con lo stesso Sartini che in velocità fredda Niang con un diagonale preciso e chirurgico. Ristabilita la parità in campo. L'1-2 micidiale del San Termita avviene poco dopo. La punizione contadini trova il pertugio giusto sul palo del portiere che l'assato incomparablemente scoperto permette al San Termita di bucare per la seconda volta la porta del Gatteo. Il sorpasso è dunque compiuto. La partita continua ad essere godibile. Gatteo ci prova con confusione. Sartini invece dall'altra parte incontra il piede tenta il pallonetto che si alza sopra la porta di Niang. Ci prova anche Contadini con Niang questa volta che brocca in due tempi il tentativo del centrocampista. Ecai sul versante opposto reca più di un brivido alla porta difesa del Romani con il suo tentativo che si perde di un nulla a lato. Il San Termita invece timbra il finale con il colpo di testi di Delia che viene ribattuto in corner mentre la punizione dei contadini termina alta. Termina qui una gara molto avvincente con il San Termita che forse gioca la sua miglior partita di stagione specie nella ripresa. Si cercava di dare continuità dopo la vittoria di domenica scorsa. Nel frattempo arrivano punti e vittorie e questo è un fattore non da poco visto il potenziale della squadra.